Ciao Enzo, sono Pasquale. Ciao Pasquale, ciao caro. Senti, innanzitutto vedere l'immagine di Angelozzi mi fa l'abrivedire, perché una società di seriali, una situazione impazzante, presenta il proprio DS, tra parentesi, dopo una contestazione, perché si presentano sempre dopo le contestazioni, mai prima, a fare gli indovinelli, quello va in Russia, quello non lo so, perché non dice i fatti come stanze? Si attacca gli infortuni quando ormai è una cosa appurata, che nello spogliatoio non vanno d'accordo, è proprio spattato, si sono fermati i crani. Vabbè, poi di carne al fuoco ce n'è tanta, non abbiamo il tempo, volevo soltanto, l'hai già fatto tu in trasmissione, evidenti all'ospensione eronico esposto, che è stato un modo di contestare. Molto bello, complimenti a chi l'ha fatto infatti. Sì, eravamo noi, l'autore è un'altra persona, però eravamo noi a esporlo, e ci dissociamo naturalmente dall'oretto che, insomma, lo spugno di esposti, non che, sì, grazie, un gesto di antispostivo che naturalmente macchia l'onore di quei tipi. Grazie, grazie a te, grazie a te. Devo dire che Angelozzi però ha questo modo di fare, cioè non lo prendete come uno che se ne frega, anzi, lui è così, sfida con il sorriso le situazioni. Sì, con il sorriso ha detto due cose molto importanti. Con le situazioni un po' amare. Sì, due cose molto importanti, però su una lo devo dissentire da lui. Lui ha detto, avete visto la squadra fisicamente come sta? Ora se ne accorge che fisicamente sta così? Forse il cambio in panchina andava fatto parecchio tempo fa. Seconda cosa, quando fra il serio e il faceto ha detto e se rimane Matarrese? Credo che queste due cose siano molto importanti e strapolarle dalla sua conferenza stampa. Tu sei un tuttologo, però so di metterti già in difficoltà in partenza dicendo qual è la squadra che vuole usare, che abbiamo provato per una trasmissione a leggerne il nome, ma io non ricordo, anzi, una cosa tipo anzi e poi una cosa lunghissima. Sì, l'ho sentito, ma non la conosco assolutamente. La squadra, francamente, è un po'. Faccio ammenda, ma non la conosco. Anch'io la conosco con questa squadra. 080, 501, 9998, però se sceglie Use che abbiamo avuto, sceglie Bari, Use che per me ha visto qui, ha trovato come una sorta di no. Ieri, hai visto quando è uscito dal campo, sorridente, a lui piace stare qui a Bari, ha trovato il caldo, il calore. Sì, però forse in questo caso ha ragionato. Ha visto qualcosa di diverso. Se non deve giocare, il Bari già ci guadagna 700 mila euro dall'acquisto alla recessione. Però siccome deve scegliere lui, ha mai visto che farà fatica ad andare in Russia. Ora che ha scoperto una piazza diversa, ha visto che fino a tre giorni fa faceva caldo come se fosse primavera, un norvegese. Però lui al freddo è abituato. C'è un amico in linea, aspettiamo ancora un'ultima telefonata. Pronto? Sì, pronto. Ciao Enzo, sono Semino. Ciao, ciao. Saluto a te e l'ospite. Ciao. Enzo, ho due cose. Una, quella della terza maglia non è una provocazione, ma è una cosa seria, perché loro non sono persone che possono rappresentare il Bari e i colori bianco rossi. Cosa vuol dire la terza maglia? Quella blu, fammi capire. Esatto. Non possono portare i colori bianco rossi in giro per Italia. Prendiamola come una cosa seria, perché so che è seria anche per te, vado a giocare con la maglia blu. O meglio ancora, se te la ricordi, quella con cui erano giocato a Crotone, quella diciamo color oro, che è quella che è meglio lì si addice, per non dire brutte parole. Brutte parole, vabbè. Una seconda cosa, il primo ascoltatore ha fatto nomi e cognomi delle cause. Io sono un paio di mesi che insisto su un'altra cosa, che si potrebbe anche fare un'inchiesta federale. Genoa, Bari, è successo qualcosa, ci sono tante voci, voi le sapete, noi le sappiamo, parliamone, ci sono delle scommesse, si è giocato per il pareggio e lì si è rotto qualcosa. Vengano fuori i responsabili, perché oltre noi parliamo niente. Posso dirti una cosa, però stai aggiungendo un elemento che, voglio dire, non sta in cielo né in terra, nel senso che... Perché Enzo? Sono voci che si rincorrono. Ma sono voci, noi possiamo dar credito a queste voci, guarda che non sei parlato di scommesse. Si parla del chiacchiericcio, del popolare, però non c'è un elemento che ci possa far pensare alle scommesse. Perché non è uscito l'X, se ci fosse stato l'elemento sarebbe successo ciò che è successo a Bari Livorno. Se fosse uscito l'X e le società avrebbero pagato le scommesse, allora sarebbe venuta fuori l'elemento. Noi la prendiamo come una tua posizione, noi non abbiamo gli elementi per dire... Una cosa, al di là del chiacchiericcio, che se non doveva uscire l'X le squadre aspettavano il 95esimo per far uscire l'1? No, doveva uscire l'X, dice il nostro amico, mi sembra di aver capito che doveva uscire l'X, se non sbaglio. A fine partita, D'Alessandro viene quasi preso a schiaffi dall'allenatore. I senatori difendono D'Alessandro, che forse era uno, forse, presuppongo, perché se erano a sbagliato io potevo essere più preciso. I giocatori si schierano dalla parte di D'Alessandro. Posso dirti una cosa però, sei dicendo delle cose molto pericolose, perché ti spiego, io ti voglio bene, però sei dicendo delle cose molto pericolose, perché date in pasto al pubblico, da questa trasmissione, che è molto creduta, può sembrare una notizia vera. Quindi smettiamole di dire queste cose, se vuoi fare la denuncia vieni qui, nome, cognome, chi sei e vieni scorrendo e te ne assumi la responsabilità, però perdonami, ma io non ti posso far passare queste cose che stai dicendo, perché possono sembrare delle notizie invece del tuo sentito dire, a meno che tu non sia il cugino di un calciatore che ti ha detto queste cose, però di esattamente chi l'ha detto. Cioè non è possibile che noi dobbiamo credere a una voce che è la tua, per carità, si vede che sei anche una persona per bene, si sente che sei una persona anche preparata, però obiettivamente fai passare un concetto molto pericoloso per chi ti ascolta, quindi lasciamo perdere queste cose. Palla a nuoto, facciamo un tuffo in vasca, che forse è meglio in questo momento, anche se qui non arrivano buone notizie, perché la Newton, Python, Bari sta soffrendo molto, era prevedibile, ma sta andando purtroppo così, è ultimo in classifica dopo la sconfitta per 8 a 6 nello spareggio salvezza contro i siciliani dell'Aci Castello. Python, Faranino di coda, con 3 punti in 11 giornate, anche qui si cerca la via del mercato, e è arrivato il centrale montenegrino Dragan Budien, prelevato dall'Accademia di Cattaro, che sostituisce l'ungherese Gergly Oppal, che è tornato a casa per motivi di famiglia. Omonimo di Rudolf, come nome di Battesimo, Gergly. Esatto, un altro Gergly, è vero, c'erano due ungheresi a Bari, ora ce n'è uno, e l'altro invece alla caviglia gonfia. Vabbè, abbiamo concluso per oggi Giancarlo, chiedi qualche altra cosa? No, è che dobbiamo dire, ormai c'è poco da dire, insomma, tranne questi eventi così, un po' estemporanei. Ripeto, teoricamente ci sarebbe ancora, però vedendo come stanno messi c'è molto poco da fare. E ricordo ancora una volta che Almiron, lo voglio sottolineare, si è fermato oggi per un risentimento al Polpaccio, quindi è un giocatore praticamente che quest'anno non abbiamo mai avuto e che probabilmente non potrà darci una mano neppure nel tentativo disperato, quasi, come dire, virtuale di raggiungere. A questo punto uno fra Copunek e Codrea si candida. Dovrebbe giocare, anche se non parla l'italiano, lo spieghiamo noi. Vabbè, ma tanto, il linguaggio del calcio è universale. È universale. Grazie all'avvocato Giancarlo De Peppo. Grazie a voi. Grazie anche a voi, domani con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao. Grazie a voi.